9 vittorie e 2 pareggi è l'impressionante ruolino di Marciak della Goliardi Capolis, capolista del Gironi del C di prima categoria, che dopo aver superato a pieni voti l'esame via dell'acciaio è attesa dal big match della tredicesima giornata contro la vecchia audace Campomorone. I valigiani di Mister Verardo, se in casa non vincono le quattro partite, in trasfatta non hanno mai perso, con 3 vittorie e 2 pareggi all'attivo e con un solo gol subito, lontano dalle mura. Amiche, più che numeri, garanzie di quella che può essere gara croce via per entrambe le compagini. Partono fortissimo i bianchi della Goliardica con il diagonale di Inciarti al secondo minuto che scalda in guantone di Beati e con la sfida tra i due che si ripeta al minuto 4 quando l'undici tira e l'uno respinge andando a chiudere anche sul tapin di Bertulla. Primo quarto d'ora dichiara supremazia Goliardica che si chiude con la solita punizione velenosissima di Zani, non tocca Bertulla, non tocca Repetto, Beati è immobile, c'è però il palo a negare l'1-0 ai padroni di casa. Pian pianino gli ospiti sembrano prendere le misure alla capolista e rischiano solo al 34esimo su azione da calcio d'angolo con l'attore di Repetto e il tocco d'esterno poco convinto di Torcasso con Beati che si ritrova al pallone tra le mani e col primo tempo curato nelle immagini da Gigi Pittatore che va in archivo con risultato ad occhiali. La ripresa è proprio il caso di dirlo, sonnecchia fino al quarto d'ora, poi Bertulla trova lo spazio per entrare in aria, vincere un contrasto, il mancino del numero 9 però è strozzato e non impensirisce minimamente Beati. A 9 dalla fine quello che per l'andazzo della partita diventa un autentico coup de teatre, lo squalificato Bonlentini inserisce dalla piattaforma luci il classe 95 Zamana. Il numero 14 già decisivo domenica scorsa si fa trovare pronto anche oggi perché sul lancio telecomandato di Repetto da sinistra apre il calibro e col piattone trova l'angolo giusto per realizzare la rete che conferma la gogliardica straordinaria capolista di questo girone. La compagine del padrone Bozzano vuole in doppia cifra perché sono 10 le vittorie in 12 incontri. Garacar ha partita bene nei primi minuti del primo tempo, poi la partita si arenata, decide della prudezza di Zamana, la gogliardica sempre di più prima in classifica.